Un messaggio scritto per augurare un sereno anno scolastico a docenti e studenti. E se l'auspicio rivolto agli alunni e che ogni giorno di scuola sia sempre un passo in avanti nella formazione di voi stessi, il pensiero ai professori è sull'importanza del mestiere che svolgono, perché tra le loro mani c'è il futuro della società. Sono le parole del Vescovo di Andriamo e signor Luigi Manzi, destinate al mondo della scuola. Nella scuola e nelle attività connesse voi trascorrete il maggior tempo delle vostre giornate. Fate in modo, suggerisce agli alunni, che sia un tempo davvero prezioso, ma sempre vissuto con lo sguardo al futuro, ricco di serena fiducia e di speranza operosa. Nella consapevolezza, aggiunge, che mettendo a frutto le vostre capacità diventerete certamente capaci di costruire una società sempre migliore e più bella di questa che noi adulti vi abbiamo consegnato. Manzi, invita i docenti a essere generosi costruttori, dando alla scuola il meglio delle vostre energie, e delle vostre competenze e del vostro cuore, con la speranza che anche i momenti più difficili e critici si risolvano sempre in processi di vita e di costruzione di un futuro buono per tutti. In conclusione, il Vescovo, non dimenticando tutti coloro che collaborano con il mondo della scuola, augura un anno ricco di tante soddisfazioni.